Conteggio tessico, conteggio tecnico e tutelare. Giurio conteggio, contenuto tecnico 504547. Conteggio tessico, contenuto artistico 494446. In pista, Pistea Noemi, gruppo patinatori scledesi, si prepari Pezzaro Viola. Pistea Noemi, gruppo patinatori scledesi. In pista, poto onde si morning quien se Guestaro va. Tessico de me gusta, faito. Pistea Noemi, gruppo patinatori scledesi. Gambo e par tremendamitas. Pistea Noemi, gruppo patinatori scledesi. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.